Io stesso mi ritengo una prova vivente del premio che il creatore, colui che è il supremo essere, ha mostrato anche a me, nella sua vicinanza, nel suo proteggermi, quello che vedete dopo che la casa è stata distrutta, come avete modo di vedere nei video precedenti, mi ha permesso senza l'aiuto di nessuno, senza sodi, senza niente, ferito eccetera, di sopravvivere e arrivare oggi a vivere in House of Thessan, ringraziandolo per quello che mi ha dato, soprattutto moralmente, perché mi ha reso felice, grazie.